alfa l'ho che c'è questo modo ok vado a fare il gioco del simbolo, riprescate le posizioni 7, posizione, gioco attraverso speciale, la visione oggi, posizione a top 50, riprescate il gioco del simbolo, e tante cose, e tante cose. Corriamo 7, sento, e tante cose. Proverò audio. Devo arrivare una volta a top 25 e 5 volte a top 50, per aprire cassa, quello che faccio sempre. Andiamo... Buongiorno a tutti. Oggi sono messo in camicia perché ho giovaneggiato a lavorare dalle 15 e 30 alle 23. 30. Fanno soltanto la live di mattina, e poi ci rivediamo direttamente domani mattina. Io però, se non c'è, devo andare in una casa, e mi sono sbagliato. Ah, però no, questa casa qua, ok. Poi salgo su per andare in quell'alto. Sì, ma poi me lo so sbagliato io perché questa la cassa dove devo andare. Non so perché ho messo il punto là. Domandona. Domandona. Ah, la tassetta c'è c'è. Però ecco, non c'è un cazzo questa terra. Solo dei pistoli di merda. Perché? Ah no, sta qua. Ma sentivo più la cassa. Mi sono spaventato che hanno... Hanno spostato le casse. Ma sentivo più in bu зм grecia. È meglio. Ah no, certo. che fai? entri o non entri? ottene male tutto il tempo lo stesso a quanto mi pare ragazzi niente di questa entrata la posso volere curare yeeeh ho già morto uno grazie Vediamo se c'è qualcun altro Sembrerebbe di no Però non sono dove cazzo andare Chi vuole andare su di qua Chi? Curia grazie per il follow Grazie mille Come va? Guarda un po' se c'è la cassa là Grazie mille Comunque sto veramente messo di merda Perché Ah lì Qualcuno c'è un dato C'è un po' se ne viene Un po' strana sta partita Però vabbè Dove comunque fare solo le daily Dunque Mi mancano Sei per avere Una daily Aiuto Ah che bello Stiamo già ammazzando Ammazzando il botto Madonna Andiamo Allora qua è il posto peggiore per venire Senza un'arma Porca caccia Ma se stanno da Deve santa ragione Dai uccidetevi Bravi bravi Io devo arrivare a 25 Dai Poi posso pure morire Attenzione Mamma mia Allora Yeah Oh yeah Allora Un attimo Tutto quello che volevo fa Non l'ho potuto fare 28 Dai E uccidetevi Mannaggia voi Dai Dai Che voglio la nuova ragazza Forza Dai 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 Forza Ci siamo quasi 25 Dai Ancora uno Non lo so sicuro E via Possiamo pure guardare Ok Eeeh No Che cazze Sartare 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 Anzi Vai 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 E papà C'ho fatta solo una volta Beccarlo 23 dai grande Dai rifatto Via Andiamoci a prendere La ragazza Tanto Andiamo Dove non proprio Quanto tanto che ci siamo Yo baby E si prende la donna Finalmente Stendardo del drago E siamo a posto Dunque Gioco a partite Evento speciale Anche io sto giocando Evento speciale No Però mi hanno dato Una su tre Quando mai C'è Ah Le scatole di munizioni Cazzo Pensavo Le casse Gioco a partite Evento speciale Ho fatto Vabbè Adesso devo arrivare Top 50 E Aprire Sti capoletti Scatole di munizioni Ma Adesso faccio Un altro Un altro Livello Arrivo a livello 22 Benissimo Figata G油 No 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 Grazie a tutti Grazie a tutti E poi provare a salire lì solo Questa è chiusa nella parte diversa Allora io direi di andare lì Ok, via E c'è la casa che sta all'attiene Quindi dovrei fare ta ta e via E proviamo a trovare 2-3 casse dai Di munizioni stavolta Noi le casse le dorate Dai c'è a me mi è messo pure sbagliato Nooo chi è questo strunz Nooo strunzin Nooo Andiamo 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 Lui è lì Io me nevole su Sì sì Eh che cazzo fai po' Ah ma è entrato da sopra Che stronzo Oh grazie mille Grazie mille Raga Grazie mille del regalone Wow Che bel regalo mi ha fatto questo Però adesso devo capire Devo capire se Quello era quello Ah le cose delle scatole No Mi sono anche queste Ok Una aperta Allora Eh però cazzo sto sempre qua Ma porca la Vabbè Che devo fare Come prima Devo fare Eh però Devo fare attenzione Non c'è un cazzo Ah Guardiamo un po' Non ho aperto questo Perché qua sopra C'è sempre la scatola Infatti Sono aperta Grazie mille Bravi Siete Grandissimi Che non mi apri Le scatole Di munizioni Allora Io devo Riendare al camion Al camion Cioè Quello io pensavo Di Fottermi Salendo con Con la scala Poi io non trovo il camion Dove ero? L'ho visto prima il camion Ah Eccolo Lì in fondo Minghia Oggi non c'è nessuno Faccio una live da solo Come mi stanno a guardare qua Ah si è a posto Hello Yeah Oh yeah Oh oh yeah Oh la Mi stava a cuore Aspetta No Non lo aspetta Io devo fare il top 50 Dunque devo aspettare un attimo Ok 50 Già ci sono Non c'è altro momento Questo Mi piace far sta cosa Aspetta Ritorno non dietro Un attimo Sto un po' Qua ho un vantaggio Un cazzo Perché non Non mi riesco Iniziare da questa casa qua Non è che mi ha dato tanto vantaggio Deve essere molto sincero Sto in mezzo a nulla Qua sto tornando indietro Paresemente sto tornando indietro Quella cosa che Questa cosa sto facendo Non è che ha molto di Di razionale Non è che Sto a tre casse Inizio Personalmente Di rimanere un attimo qua Per capire com'è la situazione Allora è uguale ragazzi O qua sto imparando a giocare O che altro Perché voglio imparare a giocare Molto più D'attacco Non di difesa Però il problema È che ogni volta Mi difendo Non capisco perché Minchia Pensate se qualcuno Mi becca la testa Dall'assù Minchia sarebbe proprio Da Da bastardini Proprio Allora Evitiamo di far rumore Dall'assù Allora Grazie. Grazie. Forse è meglio averlo davanti e non dietro. Oh, è arrivato Siamle. Zit. No, vaffanculo, ha capito dov'ero. Bastardo. No, che schifo, dai. Non è giusta sta cosa. Eh sì, vaffanculo. Io lo stavo aspettando, ma lui è stato più furbo di me. Ha mai riuscito a ammazzare con colpo? Che stronzo. Ciao, è arrivata la pefana. A me no, a me guarda. Dopo la grande minchiata di ieri non mi è arrivato proprio nulla. Eh, vabbè. No, nulla. Stavo dentro a una di quelle casette inquadrate. inquadrate sopra la cosa ad aspettare uno che mi apriva la porta. E come un coglione mi ha ucciso. Cioè, sai, si è nascosto dietro la porta e mi ha ucciso con un pompa là. E io infatti qua ho fatto una cagata. Ma ho fatto una cagata perché io volevo, in realtà, volevo stare sul, sul, come si chiama, sul divano, quello lì rosso davanti. Perché mi dico, davanti mi apri la porta e io gli sparo. Invece ho detto, no, forse è meglio stare dietro la porta. Ma invece, la prossima volta starò davanti alla porta. Come stai, vi? Beh, 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 ma il tuo anico mi porta in... Che fai, giochi? Già non ce stai più. Siamne, dove sei? Eh, grazie, a chi, a chi, a chi, a chi, a chi sto parlando? No, vabbè, io to' invitato. No, vabbè, io to' invitato. No, a chi, a chi, a chi, a chi. E io ho già stato mandato l'invito Ha buggato le gioca partite evento speciale Eh? Sneaky Silence è quello che abbiamo giocato ieri Sì, va bova Sì, ok E chi era il tuo fantasma ieri sera che ha giocato? Eh, ma quello lì non era... Ah, no, allora, è quello lì dei... Con i cespugli Hai solo cespugli Hai solo cespugli Aspetta, scusi un attimo Hai cespugli Pistola e mitraglietta silenziata E bende e palle di scudo Se vuoi la possiamo giocare Però va in completamento Ho giocato a 4 Dimmi te Ah, sì Se devi fare gli obiettivi Fiamo La squadra Sì, fatto Ah, c'è anche il papo Ovviamente ieri non abbiamo giocato con te Che ha la nuova modalità Abbiamo fatto solo la squadra Che poi ogni volta scappi come un fantasma Eh minchia, saluta però Eh, poverini Il dettore Dove è andato? Che fine ha fatto? No, no Non saluti nessuno Dunque, se arrivo al livello 50 Mi hanno 10 stelline La voglia? I PE stanno a 70% in più Ci arrivi subito? Non c'è l'incremento Dei punti esperienza Eh, ho la voglia Adesso c'è la donna Sì, finalmente Sì Sì Eh, da te dove sono andato? Quelli sono scesi prima Sì Sì, sono dei bubu E gli occhi Se vieni andiamo nella stessa casa Perché se no è un casino Ah, ma guardala Guardala su quella montagna C'è una casa con una torrenta Io non l'ho chissata Maldita dalla sua Dice perché l'arma non me l'ha voluta prendere Maldita a te Ah, devo andare a cercarmi delle cose Se trovi dei Dei cose munizioni Non le aprire Me lo dici Le casse di munizioni Se le trovi Non le aprire Che le devo aprire io Per la daily Eh, io l'arma l'ho presa Sto a posto Brava Vai mettiamoci sta cosa Eh, il pompa Vai Corri, corri Vai Non è un'altra Non c'è No, non c'è un cazzo Via, via, via Di corsa, di corsa Ecco, qua troviamo già qualcuno Minchia, stanno già quattro qua Come cazzo fai? Eh, quella lì Sul tavolo Chiudo la porta No, a certe volte mi bugga No, dove sta la cassa di munizioni? Dove l'ho vista? Cosa? La cassa di munizioni? No Sì, vabbè Sette, sì Ma intanto Ne ho già aperte tre Attenzione Attenzione Vaffanculo Vaffanculo Eccolo Questa era Eh, ma vede Ma sono morto Quanto di arriva? Top 16 Sì, la voglia Poi aspettavo l'ultimo Per farti fare la day Eh, se lui rimane fino al top 12 Eh, sì Eh, aspettiamo Aspettiamo Non uscire Ma devi fare il top 12 Se ci arrivi Al tre Vai Ciao Ok Vabbè Ma devi fare Sempre top 12 Devi fare Ah, ottengo le ricompense Ah, ottengo le ricompense Sto imparando a giocare Attaccare saltando Poi mi dovrò imparare ad attaccare saltando costruendo Questo è il livello successivo Attaccare saltando costruendo Ce la farò E poi giocare con le mie gambe Andando a destra e a sinistra Più saltando E costruendo E uccidendo Questo è proprio una Davo di là diventa un maestro del gioco Ecco Eh, vabbè Ma tu perché non hai visto Tu non hai visto il nuovo Il nuovo streamer della community Che gioca a Fortnite Fa tutto questo Insieme Ah, aspetta Ma te lo dico Eh, quello è uno Che c'è tra il quattrocento e passa Allora Quell'altro nuovo Quell'altro ieri Aspetta Dove vai te? Fatal fights Ah, ok Perché una volta riusciamo ad andarci tutti quanti insieme Dimmi quando salto Aspetta Mi lagherò un po' Si, già fatto Allora Quello nuovo è È Blue di School Gaming Eh, è bravissimo È bravissimo Blue di School Gaming Nuovo streamer Se ci arriva la casa Dov'è la casa? Casa Eccola là Dove la vuoi? La sorpasso anche Ma stiamo andando tutti alla casa però Io direi Io vado Guarda che culo Quello lì ha preso già L'arma L'arma Sì, io ho preso l'arma Dove? Su, su, su Aspetta Intanto vedo se sta qua Qua Ma dove? Il tetto Il tetto ci sono andato Non c'era niente Eh, il tetto sopra Eh, ci sono Ah, eccola, eccola Quattro Cinque Ma dove ho visto la terza cassa Scusa Ah, due Grazie Sì, sì Cinque Ok, è apposto Mi mancano solo altre due E poi ho finito sta cosa Ok, è apposto Due, due No, voglia Comunque non c'era nessuno Per il momento Mi mancherebbe solo il pompa E sto a posto Sì, ne ho trovato una adesso Guarda qua Guarda qua O le bende Però non so Ah, guarda qua C'ho questo Il bende come faccio a tenere Ok Ma qui c'è anche la No, no Sopra non c'è Quello Facciamo attenzione A vedere se non c'è nessuno Ah, forse qui c'è l'altra cassa È vero Dentro la montagna No No, nulla Oh, ieri c'erano undici persone Oggi nessuno Niente C'è nessuno Vabbè che c'entra Uno si sveglia Viene a vedere a me Scusa Il bello ambaradano Lo stratosferico L'eccezionale Continuo Continuo Cassa sotto niente Ah, forse è qua dentro Ma è vero Qua dentro forse c'è Yeah Sei Ne manca uno Dove nemmeno entrare Però Va Grazie a tutti Che sette ho finito Per me possiamo pure andare Sì ma andiamo Medi, medi, medi No, non ho cosa Non ho pistole medie Ah sì sì ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce la pistola è vero Ne ho apposto Io sto apposto Sì certo 174 L'ho messo, l'ho messo bene No Dove cacchio stanno andando? Assalti? Vuoi vedere che tra 5 secondi sono morti? Comunque siamo dentro E qua c'è sta bella casetta Qui c'è altri colpi Ta, ta Ehi Bisogna andare? Aspetta che tra poco Li dovremmo riuscire a trovare Sì ma aspetta ci abbiamo Eh ma aspetta andiamo con loro Vabbè li copriamo in due No Fucile d'assalto Ah ma loro sono andati via Non so Ma dove sta il drop No Dov'è il drop Ah ok Non l'avevo mica visto Ok Ah i razzi Sì Adesso c'ho pure I pesanti C'ho anche i pesanti Quelli là Grazie a tutti Eh, due ne hai Stanno andati in quella casa Sembra troppo tranquillo però Eh, ma stanno già a 24 Sono sei, che so, sei squadre Sei, due, diciotto, ventiquattro, sì Sì Minchia, perché non prendo la mazza? Io direi di entrare in casa Ma perché mi hai dedicato a me i cosi? Che cazzo ne so, vieni Presi? Qua ci sono proiettili pesanti Ok, bravo, presi Ok, ok Chiudiamo sta cazzo le porte Io sto a 8 comunque Sì, sì, ho fatto Già da prima Eh, io ho anche i due slurpy 100-100 Dove? Qua qualcuno mi sta sparando da dietro Mi sa Cazzo, aiuto Mi sa, mi stanno sparando da dietro Mi stanno sparando da dietro Ok, ma sembra loro già se ne sono andati Ok Sì, ma Via via Andiamo Andiamo Entrato qua, no? Io vado Io vado Pusho via Ah, eccolo E' terra E' terra E' terra Benissimo Allora, aspetta un attimo Ti posso dare altri razzi Aspetta, altri razzi Vieni Ok Loro dove stanno? Allora Eh, se non facciamo gli stronzi Questa è pitta Eh, vabbè Chi se ne è Lì c'è un altro Cosa verde Che non so che Eh, sì Ormai siamo dentro Cioè, bisogna farlo Cioè, no Non siamo dentro Sì, siamo dentro Puoi finire qua La partita Dove stanno? No, è uno sta là sopra Che cazzo La madonna No, cazzo Hanno chiuso la porta Son morti Dov'è? L'hai ucciso? Pensava qua Che ha tappato un buco Qua nella parete Dove sarà? Eh, che ha distrutto? Perché? Eh, scazzo Più difesa Di questa Oh, cazzo C'è la trappola No, cazzo Minchia, come hanno messo bene Le trappole Sta qua sotto Però attento Ci sono due trappole Mi sono morto pure Io sto dentro Le trappole Mica avevo capito C'erano le trappole sopra Eh, ormai vai Tanto Eh, vabbè Ma cazzo Può distruggire le trappole Se le vedi Non le tenere Cioè Eh, le vedi Distruggire Eh Eh, ma È una trappola C'erano pure due trappole Cioè Non serve neanche Mi sparavo Perché io stavo Andando sotto La seconda trappola È stata una cazzata Venite qua Questa Ma per me è sopra Sta sopra dove Al secondo piano Al secondo piano Al primo piano Ciao Dove ci stanno Le due trappole Beh, questa è una cazzata Che siamo venuti qua dentro Ci ha fatto come Come di pirla Sono morti Se non veniamo qua Eh, sì Noi Eh, purtroppo Se non venivamo qua Abbiamo vinto la partita E le due trappole Sì Tutte e due Eh, se riusciamo Qua secondo me Potremmo pure vincere Perché lui è da solo Allora Se qui Già si stanno a sparare Guarda No, ma guarda Che Guarda 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 Eh, guarda Che Come si dice Siete uno Siete Quattro squadre diverse Siamo Perché qua Perché lì Lì c'è Lì Sì Lì siamo Qui si sono sparati in due Dunque uno Uno Tu uno E quello che sta dentro A quella casa Uno Guarda 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 Che bella Casa Questa Eh, ma vai dentro Un caso Perché Stai dentro Casa E esci La testa Dalla finestra Cazzo Stai Fa Forza Eh, oh Grande Attenzione Alle trappole Lascia un'altra Forza Sì Ma che se ne frega Va bene così Tollità le finestre Vediamo se chiude qua Oppure devi ritornare Indietro In mezzo Devi ritornare Bruto Ma hai Medi Chi t'hai Però quelli là Vanno a Dieci Secondi Sì È lì È lì Lì No Mamma mia Ma che liscio Era uno sfiorato Uno sfiorato È stato Oh porca È per terra Tre Tre Concentrate Vi è andata lui Però Tre Secondi Per entrare Stai per entrare Mamma mia Due È da solo Dov'è Cazzo Dov'è Dov'è C'è il cecchino Adesso La casa Non sta Dentro E Dov'è Dov'è Trat Dov'è 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 un po' che sei fuori, pensi che sfiga eh rimani qua, tu stai dentro eh cazzo, perchè bisogna una via? vince forse una partita aspetta lui si lui è sei attenzione, dietro, 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 non è lì ti sta venendo sopra mi sa fermati, fermati, se no vai dentro attenzione eccolo nooo, ma dai cazzo aveva quindici eh, aveva quindici aveva, aveva quindici ma tu hai beccato l'albero se a me, tu hai beccato l'albero peccato peccato, vabbè 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 oh madonna intanto buongiorno a chi è entrato in live ah grande, tac te mamma mia eh peccato, perché non ti sei, se tu te ne accorgevi subito dov'era, avresti già potuto sparare il primo polvo eh, perché ti sei avvicinato troppo eh, se ti becca in testa, sì va, va perché, perché ma molte volte il fucile a pompa non è che serve tanto eh fai prima ucciderlo con una mitraglietta che non col fucile a pompa oh pieno dove? il gule è già stato in spino, quello è uniquely salti springs già non so perché sai che tu fai eh buttali c'è Jaden che mi ha capito non ho capito due cazzo in data ma mi ha coltato allora torre c'è la cassa io provo ad andare alla torre e vaffanculo ogni volta cazzo che mi frega l'arma questo l'odio l'odio quando mi fregano l'arma sotto il cacchio di coso mannaggia la pupazza attenzione sopra la torre c'è già un fucile d'assalto ma che cazzo ma perché sta roba dimmi perché ma io non capisco eh uno è morto è quello che è metti qua chi è? ah a terra fine a posto andato ciao uno e meno intanto l'uccisione l'ho fatta io no questo l'ho fatto io non ti azzardare a dire cose strane io ne ho uno io l'ho atterrato vengo da siam oh attenzione c'è qualcuno nooo no ma cazzo costruisci uno è per terra qua se non venite ma state lontanissimi lo sta resmiando vabbè io sono morto che peccato ne ho uccisi due vaffanculo stanno massacrando le botte eh si eh siete circondati io ne ho portato giù uno vaffanculo me ne dovevo andare io sono scemo che che li voglio uccidere ma non li devo uccidere li devo lasciare a terra li devo lasciare il resto per terra ciao destroyer come stai? che dici che è bello? intanto son morto posso leggere la mia chat? wey cinque spettatori chi siete spettatori? che bravo salute salute ah buon anno perché ancora non ce l'ho ah forse no non ce li abbiamo mai visti prima buon anno anche a te anzi buona befana oggi anche eh speriamo ieri già un altro un altro sub mi si è no gli altri ieri leo e ieri leo due lei mi si sono subbati eh i follower spero che a fine mese arrivo a cinquecento mannaggia me lo sta facendo sudare sto cinquecento se 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 la gente non se ne andava già stavo a seicento mannaggia però vabbè però vabbè intanto sudo sudo ma ci arriverò yeah almeno sono sicuro della cosa che non so che non sono botto quello è già è già confermato che non ho botto nei miei follower che poi oggi se hai visto sto facendo un follow to follow ieri l'ho fatto oggi domani lo farò poi lunedì di ritorno normale eh grazie mirdos del lost grazie mille mirdos non ho capito ah che cos'è un follow su follow cioè eh sì tu segui me io seguo te ma perché hai lanciato qua ma non ho capito ho riallaggato ti avrà allaggato per caso intanto buongiorno a chi è venuto dalla stream di mirdos buongiorno buona befana avete trovato tanto carbone perché state lanciando intorno manca ancora tanto però ai top 12 eccolo 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 sì a terra a terra attenzione ci sarà il suo amico ma perché cazzo lo uccidi non lo bisogna uccidere lo bisogna lasciare per terra no cioè se tu sai che non è da solo è normale che che aspetti prima di ucciderlo io io si è buggato si è buggato mmm da due quello l'ho fatta io ieri un po' difficilotta però bisognerebbe farla subito all'inizio sii dopo mezza giornata ce l'ho fatta poi ciao buon centro commerciale compra tanta roba fai tanto shopping mangia mangia da mcdonald burger king si burger king è buonissimo io qua c'ho solo mcdonald però mannaggia però la colazione dal mcdonald non dico di no nella colazione del mcdonald il panino no c'è il panino quello c'è il panino c'è il panino quello aspetta come si chiama asno non mi ricordo che cacchio si chiama quello della colazione che c'ha la salsiccia e l'uovo è bellissimo questo mamma mia me ne manierei un pacco no mi ha fottuto lo scar bastardo che non mi ricordo ma si chiamano quei banini qui qua abbiamo due gta ring rmg2 dove? ma se va? qua è rete roto ma tutto forse è rete no rete roto come se da un altro gioco lo stai? devo perdere qua ma che sta a giocare? con un gioco sul cellulare qua c'abbiamo io c'ho quella casa lì che ci infatti stiamo andando dove c'è la la porta ok aspetta io entro dalla porta cina qua no vabbè va pure sopra il tetto ma cazzo che vengo un attimo dove finì qua no no io sto in quella vicino di casa e probabilmente ho trovato ok via aspetta che sto prendendo la seconda cassa ciao carbonara buongiorno 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 giù 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 riuscirò a rimanere vivo grazie ma quanti cazzo dei cosi c'ho qua ah questa è quella del minchia questa è difficilissima da prendere sta cazzo di cassa prendo una ballerina ma si andiamoci da qua ho preso tutto aspetta mi tolgo questa e mi riprendo questa dove sei che cazzo che significa l'ha ucciso ciao ciao eh ma io già sto in coso già sto dentro con 3-4 persone a posto chi è chi è si perché sto streamando che tovo dice si uh anch'io anch'io voglio fare il pony vai yeee no vule non c'è cioè sto vule non può fare una roba del genere dai cacchio eh eh no il vule è che non c'è la cavalcata dai no te prego eh grazie del follow quale skin ma io manco so come cacchio li fa e vede sta roba no io manco so io intanto non so nemmeno come far vedere quello che avete voi nella cosa cioè mica l'ho capito tutti dicono ma che perché c'è quello c'è quella ma come cazzo lo fate a vedere cioè qual è il qual è il bottone no come faccio a vedere la vostra borsa di quello che avete dentro ah non si può vedere no perché uno mi dice no no perché sono quello che c'hai allora oh oh chi è guarda sopra di voi voi dove state questo è tutti da nostra parte ma voi dove siete si ma se voi ve ne siete complete eh ma se voi vi siete proprio allutanati noi qua siamo circondati qua siamo circondati e come ecco ecco vieni tu che sei morto scusa eh io te sto tentando di arrivare ciao dorilo casu ah dorilo casu vuole lol eh ma perché porto questo perché c'è il pass dunque vorrei riuscire a provare ad andare in dove cacchio siete voi la madonna state vistantissimi però non vi hanno ucciso eh stanno scendendo stanno scendendo stiamo scendendo aspetta aspetta non mi hanno visto a me aspetta 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 eh sì eh non ce la faccio e va ma scusa mi siamo no più che altro è tutto ucciso io l'ho ucciso io l'ho ucciso oh mi dispiace mi scuso mi scuso con Siamne per questa uccisione dove è andato? perché? ma no mi ha dato pure il follow smettila invitalo nooo Siamne perché sei così cattivo ieri chi? eh ah mi insultava poverino ma tu voi avete ucciso lui o l'uncide o l'uncide ah ok allora no cazzo è successo poveri me lo toglierà adesso come stai Okasu che ti racconti buongiorno buongiorno ben buongiorno buongiorno sono stato come ho detto l'andro vorrebbe fare anche oh bella salti sprints 10.45 sì grazie mille ben di stare con me e mi son perso la casa ecco non c'è un cazzo qua giu 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 buongiorno alleluia non c'è niente morirà subito no ma perché non ho preso la pistola ogni volta non prende la mazza andiamo alla prossima a casa chi sta con me eh perché qua è buona solo pausa io avevo vula insieme a me guarda il puntino perché? ah siamo ne ma c'è l'altra però vai a prendere la cassa solo qua c'è un pompa verde intanto qua c'è la cassa che cazzo ha aperto ma va a fatturo nooo che cazzo è? qua sopra aiuto porca puttana aiuto aiuto chi mi aiuta? siamo neee siamo neee siamo neee cazzo sei ciao cagare si un cazzo buongiorno bravo bravo niente ciao ciao no ma stavi sopra mannaggia perché sei sceso vabbè questo è il partito non so dove è scappato proprio questo vaffanculo Tony vabbè vabbè rimani c'è il Mary Pitt l'ho lasciato che cazzo non l'avevo visto quello là sopra ahiaiai allora ecco me come si scappa si stanno cercando Tony sta cercando un cesso dicono in chat non l'ha trovato però eh che poi io non l'ho capito quello lì ma stavo non stavo con noi nella città giusto lui sta però in un'altra parte mi sa eh allora se ne è scappato cioè che cazzo invece viene ad aiurti mi scappa valla a uccidere va eh uccidilo uccidilo non si dice non si dice sto in live no no aiui aiui Vabbè comunque È uno straordinario giocatore Sì infatti Ma chi è? Tony? Si è messo il... No! Non lo devi fare Che combinato L'ho ucciso Lo vuoi zappare? Eccolo qua No ma guardate Cosa ha combinato? Cosa ha combinato? Ecco Chi non mi aiuta muore Ma no Guarda che non te l'ha data La quittata Si mica è morto No no eccola Eccola Ah non lo sapevo A posto Siamo Tutto questo Tutto questo abbiamo beccato Sette follower Intanto C'è un 7 viewer Che hanno visto Questo massacro Dunque top 12 Vediamo se lo raggiungeremo Un giorno Che palle però Ma non lo prendi? Quello blu Ah Sembra che nascondeva Le Le armi No io direi Di stare un po' Tranquillo Per arrivare al top 12 Doresti arrivare Almeno a 30 Sì Vabbè che c'entra Bassacchetti Nascondi Camperi Camperaggio totale No Sì sì Così faccio Intanto faccio Una solo Che continua il mio La mia daily Buongiorno Stella Brilla Buona Befana E buon anno Questo Dove cacchio L'ha creato E' in sospensione Questo Ma se tu gli rompi La scala Cade questo Ma guarda Sta dentro Non ti vorrei Di niente Non gli prendi Nulla Ma non ho capito Perché stava da solo Ah se scappa Sì Mannaggia a te Che arrivi Costella Brilla Ma mo questa Che è un altro Oppure già Ne è rivenuto Costella Brilla Non mi ricordo Scappa Comunque auguri Eh non ce li siamo fatti Ah puzzava Ha detto che In chat Dicono che puzzava E allora L'hanno Incarcerato da solo Poraccio Ah si Fagli auguri Anche a Katia Ah si E' vero Questo qua L'account di Katia Sì sì Adesso mi ricordo Bello 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 Questo Bello 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 Mamma mia Bellissimo Questa Che bello 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 Mamma mia Grande Vai Siamne Si vince Si vince Dai Vinceremo Da solo Lui Vincerà Per tutti quanti 31 Quasi in top 12 Eh Però quell'altro Un cretino Che l'ha fatto Quella che In mezzo Subito In mezzo In mezzo Alla prateria Cioè Ah è Escape from Tarko Sì Lo ne parlano tutti Però A me non è che Mi piace tanto Un nuovo Survival Che è Anche quello In In Alpha Ancora Non è finito Perché 26 Stai in top 12 Non sei contento Seconda Vatti a nascondere dietro Quella cassa Di quella casa No Eh vabbè ma perché Non si è nascosto bene Cioè Cioè si vedeva C'era la testa De fuori Eh Vabbè la testa Fuori Cioè Uh cassa Non è venuto nessuno Qua Vabbè non c'era il caccio Deve poter pure Non esistere Questa cassa No è venuto Ah no Non è venuto nessuno Che hai combinato Scappa Per queste feste Che hai fatto Che avete fatto Sì che cassa pacca Oh la ma Si li becca No 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 Peccato Ah però aspetta Quanto Ah top 10 Grande Top top 10 Ah niente a casa Ah vabbè Sì sì Io intanto mi faccio Gli assoli Top 50 Altre tre volte Io vado Dov'è O me ribida Un'altra volta Ma vai o non vai Vai o non vai Quali pagamenti di Twitch A me è ancora Mi viene da Mi viene da Qualcosa Sì 100 euro 100 dollari 100 euro Non so adesso Se contano in euro O in dollari Sì 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 È arrivato a 100 euro 100 dollari Ti danno Ti mandano Il coso Però voglia Tra un anno Tra un anno Mi arriva Tutta sta Sta roba Allora sì Sono da solo Adesso E dunque Non Relogio Cioè vai Dove arrivare Top 50 Tre volte Ancora Non so se riuscirò Ad arrivarci Comunque Scappa Grande 300 mega Finalmente Si vedrà qualcosa Di buono Inizierai Inizierai a streamare A migliott'alto Allora Come faccio io Se non mi cade La connessione No ieri sera Mi è caduta La connessione Veramente Il wifi Mi è caduto Veramente Ho dovuto Spreggere tutto E riaccendere tutto Però poi alla fine Ho chiuso la live Non lo so In dollari Beh Sei in dollari Meglio Sei in dollari Perché se loro Ti danno 100 dollari Visto che Il dollaro E l'euro È più alto Ti arrivano più soldi Bisogna vedere Se non ti danno 96 Virgola 50 dollari Per arrivare A 100 euro Eh vabbè Ma pure io l'ho fatta Quella disconnessione Anch'io Il tuo stesso giorno Perché team In quel giorno È andata Down È andata Nunca anch'io L'ho fatta Madonna Mi è manco Una cazzo Da arma Madonna santa E poi l'arma più merda del gioco Qua sta Madonna cazzo ma non si rompono 20 20 cose bisogna farli Ah L'ho fatta l'altra arma Mettiamoci sta cosa Di 100 dollari Eh sì Vabbè Se può aspettare Non è che quello è il problema Trappo Ma l'ho presa la trappo Sì Però aspetta un attimo Eh che Già questa La butto Perché non mi serve Una mazza A posto E E Sto avendo anche lo stesso problema Con l'affiliazione di Amazon Che La gente è venuta Con il mio La gente è venuta a comprare Mamma mia Mamma mia Prendi tutto La gente è venuta a comprare Con il mio Codice E Però non mi ha dato i soldi Ma tu sei affiliato Ben No ancora no Mi sembra Non sei affiliato Vero Scappa Ma Ma Scappa 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 Ah 25 euro Eh si ma Il problema è che Non ci è scritto Nessun ricavo Del mio Coso Quello è il problema Un mio Il mio amico Mi ha Comprato Quel mio codice Però non c'è Nessun ricavo Da quel cosa Bu Questo ha presunto Da qua Vedo dove cazzo Deve andare 30 secondi Tanto top 50 Già ci sono Dunque sto messo bene Beh qua ormai Quindi qua E ce ne andiamo Via 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 Andiamo Non voglio perdere tempo Tu che sei Geofine Che cazzo Che c'è Sono Geofine Su Twitch Io Non l'ho capita Comunque scappa Il 17 Di Ho fatto la filazione Di Amazon Sì sì Giusto Ah di giovane Sei giovane Ah sì Allora non si è filiato Ancora no Però credo che Basta che arrivi Ormai a Coso Basta che arrivi Ma io non mi ricordo Però Sei già a 50 Mi sa di no Però comunque Tre spettatori Rifai te Nella tua live Come rimanere Come un coglione Dentro Alla porta Non riuscendo Ad aprirla Mi sembra Un muro Ah ma vabbè Comunque ci sono Dentro Ragazzo Non c'è la faccia Ad arrivare Abbiamo Munizioni 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 Grazie 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 Andiamoci Adesso Andrei Dentro Alla Andiamo di qua Per di qua Sto a fare un casino E sicuramente Mo ci entro Perché sono un coglione Bene Ma sei affigliato Non mi ha detto un cazzo Ma veramente sei affigliato Io non ti ho visto Che sei affigliato Cioè sei affigliato Twitch Beh si Devi mettere i manifesti Cacchio Mannaggia te Ben Se sei affigliato Allora Guarda che parteci al mio contest Il 17 di gennaio 2018 C'è il mio contest Dalle 15 alle 23 59 Chi arriva Per primo Ora Aspetta Aspetta Chi arriva per primo A 10 viewer In questo periodo Di tempo Cazzo In questo periodo Di tempo Becca la mia sub Amazon Amazon Prime Quelli sta là Aspetta Fermati Fermati un attimo Quella Madonna Beh Tanto comunque Basta che dici ai tuoi follower Di venerti a vedere Dicevo guarda 10 minuti Devi solo scattare una foto Dunque Devi scattare la foto Al tuo video Quando sei live Delle 10 persone Se riesci E poi Quella foto Metterla sul Sul discord Della Della cosa Sul discord Della community No Anche no Andiamo di là Anche no I bot Contano No I bot Non contano Ciao Butti 99 Cosa porti A parte Fortnite Per il momento Solo Fortnite In realtà Porterei Dovrei portare Però Sono stato veramente Bastardo Il seguito Di Xenoblade Chronicles 2 Per Nintendo Switch Però il problema Infatti Non lo riesco Non lo posso Continuare Infatti Sono proprio Fermo Con quel gioco Perché comunque Sto in una parte Importante Del Del gioco Xenoblade E Purtroppo Non lo riesco A portare Perché Ho comprato Questo pass E voglio Per il momento Andare avanti Con Con Questo gioco Xenoblade Non lo posso Portare Da solo Perché sono Arrivato A un punto Importante Della storia Che comunque Voglio farla Vedere A quelli Che mi Mi seguono Per quel gioco Però La super Tettona Ancora Non l'ho Trovata Niente Non c'è Niente da Fare Non trovo La big Big Boobs Nulla Che significa La tua amorosa Uscire Lai Tanto comunque Adesso Guarda Puoi anche Che Tanto mo' ce l'ho io Ciao Aiuto Aiuto Non voglio morire qui No Non posso Andare Il gioco Comunque Weee Maronna Mia Non so come L'ho ucciso No L'ho ucciso Pure a me L'affancio Cagare Ah ecco Scusa Non l'avevo capito Le buzz Della amorosa No dai Poverino Cazzo Ma tanto Comunque Ormai Lo fanno Tutti Cioè Anche Anche Lo streamer Che stream Su Multiplayer Punto It Ha portato L'amorosa In In streaming Dunque Dunque Lo fanno tutti Ormai Io Se porto Una bambola Una bambola Qua vicino Con una parrucca Bionda Faccio credere Che era mia Amorosa Questa Eh Poi Ha scritto La prima che ha avuto Il mio contest Dei dieci Delle dieci Viewers Ha scritto In Ha scritto In In live Cioè in live Per fare entrare gente Ha scritto Sì Big Le vogliamo Big boobs Eh Non deve essere piatta Poverino Vai Ha scritto Nei commenti Faccio uscire Le boobs È arrivata 11 Tutto Da un botto Poi Poi se sono cazzati Perché ha detto Oh ma ha detto Che facevo uscire Le boobs Eh quale boobs Tu intanto scrivilo Fai vedere L'amorosa E vedi come arrivano 15 persone Questo potrebbe essere Una tattica Io non Io non ho detto nulla Però ben Dunque tu Il dieci a sette Sei pronto Che mi sembra Che è il dieci a sette Sì mercoledì Mercoledì Dieci a sette Giusto Aspetta Mede Sì mercoledì Dieci a sette Giusto 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 È uno dei Dlc È uno dei Dlc Annaggia Che sfiga Sarei dovuto scendere giù Ma chi cazzo Me lo diceva Che lì c'è la Quarta un altro Che palle Che faccio Vado all'hom Lodge Vado qua su No vado più qua su Dai Devo arrivare comunque E devo fare Top 50 Me la campero Per queste ultime due partite Che Quella che ha scelto Gli MC Bravo Bravo Bravissimo Nooo Questo dove va Dove vai 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 Faccio pure Prima di andare Di là Che salgo Sopra il Lui sta andando là Ok Oh 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 Trappola Ok Via Allora Entriamo qua Non c'è la cassa Però io comunque Questa trappola La metto Vediamo un po' se chiude qua Ho chiuso qua Però è vicino Aspetta un attimo Cassa Non ho la cassa Però fammi mettere subito questo Non si sa mai Uh bello Eh Però mi servirà Un cazzo E peccato Non c'è la cassa Ma io ci provo dai Chi se ne frega Però peccato Che stanno Cascadendo uno Dopo l'altro Lì Forse avrei dovuto Aspettare un po' Ma aspetta Andiamo un po' De qua A vedere Che altro Per avere un pompa Questa è Un'altra Un cazzo Via Però la prendo Perché non vorrei Dargli A quello là Che mi viene Adesso dirò al culo Cazzo Non è di star Ma non mangio a te Aspetta 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 Io ci provo Ah ma tanto S'arrivato Ah ma non A posto A posto Giusto Top 50 Va bene Occhiamo Giochiamo La scela Andando avanti Questa è la casetta Però sta dentro Andiamo lì Dal chiacchiericcio Sciolto Sì infatti Nelle tue live Anche se stai da solo Parli Mamma mia Ben quanto parli Oh Uh che è quello Come c'è a posto Il due live Proviamo ad andare Lì al Eh ma pure Quello hai ragione Ah no Qua già ci è avvenuto Qualcuno Ma ha preso un cazzo È avvenuto qualcuno Ma non ha preso niente Questa cosa mi sembra Un po' strana Un po' strana Che strana sta cosa Sì, però non serve un cazzo venire qua, perché, cioè Più che altro lo che bisogna fare è chiudere questa porta e rimanere dentro Ah, cazzo, però, ah, mi son tolto il pompo Ho fatto una stronzata, ne sa Ben, ma tu l'hai finito Xenoblade? Sì, tu l'avevi comprato Xenoblade, l'hai finito? Quarto capitolo, eh, sta dietro di me, io, no, forse ho finito il quarto capitolo? Mi sembra che sono il quarto o il quinto Io veramente ci sto perdendo, essendo che non l'ho... Ah, vabbè, sì, certo, quello è normale Io mi ricordo che sto al quarto o al quinto Comunque ho perso veramente tanto, tanto tempo a finire tutte, diciamo, in questo momento a finire tutte le missioni secondarie Finire le missioni secondarie Che lì ci vuole tanto tempo perché Comunque devi starci dentro al gioco per finire le mie missioni... No, scusami, non le missioni secondarie Le missioni dei mercenari Le missioni dei mercenari devi stare dentro al gioco Dunque ci perde un po' di tempo E poi invece ho finito Sto tentando di finire abbastanza molte missioni secondarie E dunque sto tentando... Ho perso molto, molto tempo Ad affinare le competenze dei miei sottoposti Là, ma cazzo si chiamano Quelli là che mi accompagnano E lì pure bisogna veramente capire certe volte come farli ad arrivare a livelli 2, 3, 4, un casino Ma oltre ai giochi in vista ce ne sono altri Sì, sì, ci sono altri giochi E poi metterò poi quando qualcuno ne becca uno Come ho fatto l'altra volta Ogni volta che uno me ne prendeva uno ne aggiungeva un altro Ok, è che sto alzando qualcosina su ebay Ah, ma è che tu vendi roba su ebay anche Ah, ma questo ho l'only Vola, 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 torno indietro Non sta qua? Ah, è la PlayStation 4? Tra quanto la vindi No, credo dove stanno, questi Se qualcuno sparava da queste parti, no? Vedrà che mi sono accacciato nei guai Oh, e entro Ma qua le... Ah, beh, fare la Switch ormai, pure io Ormai fuori dalla stream Gioco solo con la Nintendo Switch Ma la PlayStation 4 qual è? Scusa, quella normale? O quella... Che tipo di... Di è? Ah, ok Madonna dove chiude, cazzo Andiamo piano piano Porca troia Non ho capito se mi ha beccato da sopra o sotto Aspetta Entriamo dentro Mettiamoci qua Intanto Da dietro Ok Allora Io dovrei uscire da qua Così andare dritto Ok, io per me rimango un attimo qua Ok Mi continuo a far uccidere tra di loro Poi vedrò Però il peccato non ho un po' Sarà un po' duretta qua Comunque sono arrivato già bene Primi sette Ah, quelli in Lizza non ti fanno impazzire Eh, vabbè Oh, c'è uno proprio davanti a me Minchia sta non la sta Via, via, via Via, via, via Via, via, via Via, via, via Vé Ecco Sì, sì. aiuto non so se è stato beccato oppure no però tanto ci posso solo andare fermati ma comunque devo andare ma dove io dentro la casa intanto dentro no ma nemmeno ok adesso qua via ok fammi capire ok via via non sono dove cazzo andare però qua mi si vede troppo qua non sto dentro vabbè ci posso solo entrare via 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 io ho fatto la stronzata di costruire tutta neva se non cazzo non costruivo quindi manco sapevano che io stavo là sotto ma l'affanculo terzo perché ho costruito un deficiente oppure rimanevo là sotto da lui che non mi avrebbe visto sì sì l'asta è una roba allucinante si può andare malati guarda quello è il problema è una malattia e beh può diventare una malattia inoltre ne esci e spendi tutto sei spettatori buongiorno a chi non ho visto o chi non ho allora carbonara ho stato ah che il pari di carbonara non gli piacciono i giochi dunque dovrai aspettare qualcuno che becca un gioco sui 800 punti sì solo manuale sì se non ce l'hanno è una cosa molto è prezioso un manuale perché potrebbe essere qualcuno ha solo il gioco senza il manuale gli serve il manuale per triplicare il valore del gioco dai devo fare l'ultima da 50 dai top 50 allora vediamo andiamo qua carbonara non si fanno queste cose non si dica che giochi hai allora aspetta che poi manco lo so io aspetta un secondo devo ria apro la posta ce n'è uno grosso carbonara no dai ok molto lo dico ce n'è uno grosso di gioco per quello che ho alzato la per quello che ho alzato a 800 perché comunque è un tripla di tanti anni fa però è un tripla tanto che aspetta scendo vedo di altra allora ok aiuto mi sono sbagliato ce l'ho fatta nemmeno una cassa oh sto dentro però vieni non c'è un cazzo si ok diamo la seconda la terza e poi dentro no dentro entrare il prossimo e poi entrare in mezzo perché devo arrivare qua e stiamo a 64 e beh ma tutti i giochi che ho messo sono buoni giochi non ottimi ma sono buoni apro qua la cassa c'è c'è il cannone trappola 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 non so se la metto non so se la metto Allora Dove sei arrivato? Ah Punch Club Allora Gli altri 4 gioco sono Beh sempre solo per PC Sono Aragami Beholder Bioshock Infinite E Shenzhen I.O Che Shenzhen I.O Non so che minchia è Manco l'altro Io so che cazzo è però Sono tutti 8 Buoni Beh il AAA Vecchio 8 E il Bioshock Infinite Che do Aspetta intanto Metto la posta in Ta Ta E Ta Questo lo Cancel Cancel Vai Ok Ecco fatto T'ho detto tutto Quale? Il Bioshock Infinite Eh 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 Spera che qualcuno Prenda i giochi Eh eh no aspetta Mi mette uno Ok Ok andate là Poi che palle No a me purtroppo Quella lì da Quella è dentro o fuori? Quella è ancora dentro Ora vado lì E poi vado la quarta Ma intanto C'ho tutto il tempo Ah il terzo Bioshock Ti manca? Eh Io volevo Se ricevessero il 50 Volevo il Bioshock Quello I tre giochi Che l'hanno scontato Anche un'altra volta Ma poi Alla fine ho Inunciato Perché comunque Io i tre Bioshock Ce li ho già per Ce li ho già per 360 360 Ah merda Mi sono un attimino Dimenticato Devo fare una cosa Oh Ok Così è meglio Eh Anche meglio così Ok 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 Ci siamo Abbiamo Le scardiola Aspetta Un attimo Fammi capire Un po' Fammi rinzare Eh sì Andiamo là Come Intanto Ho già finito La Io conosco Solo Bioshock Mi fate un po' Di cosa? Vi uccidete Per avere Bioshock Infinite Gratis Comunque Benwolfers Per avere I pinguini Coins Visto che Così comunque Devo aiutare Visto che lo sa Anche Carbonara Devi darmi E poi Ricevi Ogni 30 punti In più Se Mi dai Lost Manualmente Dal tuo canale Minchia Sono vicinissime Non ho capito dove Venga Ula 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 Entra 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 Saltate Qua Saltate La Saltate Su Saltate Giù No No Che cazzo Faccio Entro qua Io Sì E te piazzo Tutto il tempo Faccio pure un po' De cose Intanto Che spesso Non sto Tanto Lontano Dalla Qualcuno Mi ha sparato Non so Guarda Che pia Fatto Fa Tanto Ho Se Ho 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 Eh oh, se tu vuoi il gioco Perché se tu mi segui Prendi solo 5 Pinguini coins ogni 10 minuti Facciamo un po' di cacciara Che cazzo faccio? Eh no, uguale Tutti eh, anche perché ti ricordo Che comunque Se tu mi guardi Hai i 5 minuti di Come si dice Hai 10 minuti No, hai 5 5, 5, no aspetta 5 pinguini coins, no? Ogni 10 minuti Però, visto come fanno tutti Nello schermo, nel video Certe volte appaiono dei forzieri Se tu piggi quei forzieri Poi ti danno altri punti No, la stagasa non è dentro però C'è una bella cosa che vado dentro C'è un cespuglio da qualche parte Datemi un cespuglio da qualche parte Cazzo non cespuglio Però sto bene un po', cazzo Corri cazzo Corri cazzo Mi metto qua Vabbè No no ci sono ci sono Ah si carbonara ha preso I tre borderlands è vero Li ha presi tutti e tre E per quello che devo Man mano che il canale sale di persone E' normale che E' normale Che comunque I pinguini coins Iniziano a diventare sempre più alti Allora io qua ho finito Perché devo andare via No i forzieri non sono lari Anche quelli sono dentro A un coso Siete voi che non li vedete Perché i forzieri Aspetta i forzieri vi dico subito Come funzionano E intanto mi prendo Gli altri miei cinque Passi a livello 22 Che mi ha dato quel livello 22 Ah roba nuova E che cazzo mi ha dato di nuovo Amico l'ho capito No aspetta Ah ok La vittoria Che cacchio Mi andrò a strada Ah ecco questo Mandato Allora Che tiro fuori L'applauso Sì dai Tolgo waste E metto waste Sono abbastanza rari Aspetta un attimo Fammi andare a vedere Dunque Nightbot Touch extension Allora Andiamo un attimo Allora Point settings No No Eeeh Ah eccolo qua No ogni 10 minuti Ogni 10 minuti arriva Una cassa Ogni 10 minuti avete una cassa Con la durata di 10 secondi Però la frequenza Si però la percentuale Dei viewer che prendono la cassa Può essere del 30% Dunque ogni 10 minuti Una cassa spunta dentro il video Yes Confermato No no C'è c'è Comunque Io vado Aspettate 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 No no È grande È grande Perché ero sempre al bot No è la cassa Quella normale Che hanno tutti quanti Sulla loro live Allora Allora Facciamo una Uè Mi fate fare un raid Ah Fede infatti Mi sembrava strano Fatemi fare un raid Voglio fare un raid Da qualcuno Però non so chi è Non so chi c'è Chi c'è Della streamers Italia Uè C'è pure qualcuno nuovo Alficun No Corset Sono Franceschino Not Che è questo Ah no Uè Uè Fatemi fare Un cosa Andiamo da Fatemi fare un raid Per favore Facciamo un raid Da Shinux Che sta giocando A Years of the Storm Uè c'è un pacco di spettatori Ho diventato un grosso canale Pure lui Madonna santa Dai Ben Pure tu Ti voglio vedere Con 20-23 spettatori Vabbè ma è certo Che ci saliva Carbonara Ben Avete capito Voglio fare un raid Rimanete lì Per favore Fatemi fare un raid Di tre persone Grande Di tre persone Figata pazzesca Via Proviamo Partecipate al raider Per favore Sì grazie Grazie Tre Vai Grande Comunque Ci rivediamo domani mattina 8 e mezza Tra le 8 e mezza Le 9 e mezza Inizia un'altra live E poi farò domani pomeriggio Dalle 14-14-30 Fino alle 16 Perché poi vado a lavorare E poi comunque Uh Cinperaider Grande Chi sono Chi sono Bravi Grazie mille Alla prossima E ci vediamo domani mattina Già dalle 9 e 9 e mezza Grazie mille ancora Ciao